Taglio di oltre il 90% delle prestazioni in lista d'attese in un solo anno nella ULS3 serenissima, a dirlo il direttore generale. L'anno scorso partivamo da, più o meno in questo periodo, da circa 9.000-9.500 visite in galleggiamento. Oggi siamo a poco più di 900, quindi c'è stato un lavoro importantissimo. L'ottima performance, in particolare sul fronte delle prestazioni P, quelle cioè da erogare entro 90 giorni, abbattute del 92% e rispetto alla media regionale del 62%, e cioè con le 3.850 prestazioni pendenti a giugno 2023, a giugno corrente sono 301, quelle ancora in attesa di essere evase. C'è criticità per le prestazioni di dermatologia e oculistica. Questa criticità è registrata a livello regionale e anche nella nostra USLA.